Eccomi con ragazzi, benvenuti in questo nuovo test mode Oggi sono qua a presentarvi questo Spani Letame della Voschieri Non ne avevo mai sentito parlare, infatti ho cercato un attimino su Google Per vedere se c'era qualche informazione, un qualche sito, un qualcosa Ho trovato appunto il loro sito in cui fanno i loro prodotti Si tratta principalmente di Spani Letame da 1, 2, 3 assi con Spandimento Anteriore e Laterale Oppure gli altri che sono Spandimento Posteriore Comunque se volete curiosare un attimino su questo sito Vedere cosa producono esattamente, vedere le dimensioni, i pesi eccetera Vi lascio in descrizione il link del loro sito per poter vedere tutto quanto con calma Altra cosa, l'autore è Didimod Passion Quindi vi lascio in descrizione anche la sua pagina Vi mando poter farvi vedere cos'altro sta creando Perché quello che ho visto ha creato il set CSZ E sta creando anche tanto altro Quindi date poi senza che poi ci saranno tante altre belle cose Ma comunque devo dire che questo qua è stato fatto veramente molto molto bene Sono due versioni, questa è la versione 4 assi Mentre poi c'è anche quella da 2 Che poi vedremo quando andrò nella categoria apposita Per farvi vedere un attimino le varie configurazioni che hai Che sono molto semplici ma che comunque sono carine dai ecco Vediamo un attimino come è messo Allora vediamo che qua ci sono varie parti idrauliche C'è la parte idraulica che riguarda il pino di stazionamento Gardano Prese idrauliche, prese elettriche e in teoria anche dei freni forse Giallo mi pare che sia della parte elettrica quindi tutti quanti i fari posteriori Rosso non mi ricordo cosa sia Forse i freni ad aria credo Mi pare di sì So che quello sotto la presa gialla è la corrente Anche l'altro però Ho un dubbio Schiettelo nei commenti perché non mi ricordo bene Perché mi confondo con quello dei camion Comunque ad essere corrente e aria credo Però c'è anche sotto la presa del corrente quindi non lo so Dite voi nei commenti quindi mi date un bello aiuto grazie Poi abbiamo la parte che riguarda invece la parte del gardano Che poi va al riduttore penso sia per comandare Per azionare il naso trasportatore che serve portare avanti il letame E spargerlo con la girante che vedete poi qua davanti che serve qui Quindi sono due parti che servono per homer il tutto A sali vedo indipendenti con sospensioni ad aria e assi sterzanti Adesso vedete qua dietro ci sono i cuscinetti quasi degli ammutilizzatori E qua vedete anche lo sterzo che sarebbe questo cilindro che vedete al centro Che servirà appunto per far sterzare l'asse Questo qui sterza di più mentre quello al centro lo fa da perno Mentre questo qua davanti fa da diciamo Con più una leggera rotazione appunto per aiutare la sterzata Adoro cilindro idraulico penso per forse regolare il nastro credo Tutte quante le varie luci Cartelli cartelli frangenti Vascheri Lorenzo SRL che sarebbe il nome di questa azienda qua Targa con scritto DD Mod Passion che va da qui a qui vedete così 40 all'ora Ed è fatto anche bene a dire niente di male Molto ben curato devo dire Complimenti a DD Mod Passion per questo bellissimo lavoro Questa invece è la paratia che una volta azionato tutto Si apre e inizia a spargere l'etame Comunque vedete è fatto veramente molto bene Qui intanto l'ho riempito un attimino giusto per avere già tutto quanto pronto Ed anche c'è un po' di usura perché l'ho usato un attimino giusto per vedere come funzionava il tutto Allora come detto prima sono Forse non l'ho detto ma comunque lo faccio vedere adesso Sono due modelli Due e tre assi Eccoli qua andate su spandiconcime Ecco vedete sono l'L160 da 120 cavalli 16 mililitri di capacità 10 metri di spargimento 15 metri di lavoro laterali Oppure c'è questo qua da 20 mililitri Con 12 metri di spargimento Sempre 160 cavalli Però in una caso Allora ci serve questo qua che è vabbè Gomme lizard quindi strette Oppure avete le miscelen Trelleborg Design 1 serve praticamente con Penso i cerchioni cromati Oppure con i cerchioni Non so se sia Questa qua è cromato Questi sono forse cerchioni in acciaio o alluminio Non ne ho idea sinceramente Chiedo scusa per le minoranze Ma non riesco a capire cosa sia esattamente Queste roba qua Cioè so che sono cerchioni inox Cioè che roba da ma Ah si qua cambia Vedo che cambia ancora qua Vediamo che cambia un attimino La bordatura qua Da quello che vedo Si cambia qualcosa Si cambia solamente A quanto vedo Il tipo di cerchione Da quello che è noto Però comunque Alla fine è fatto bene Tanto da dire Molto carino E devo dire che è anche un piacere Avere La possibilità di provare Su farming Dei spanni di letame così Perché alla fine Molte volte la gente Non conosce Coracell Di fuori ma del proprio paese Perché ad esempio Marche famose come Bossini Ravizza E Valzelli Sono molto conosciute in giro Ma magari queste qua Hanno un po' più tanto Quindi faceva il piacere Sapere che Oltre a quelli là Ci sono anche dei marchi Un pochettino più piccoli E che poi magari Si fanno anche Tra virgolette pubblicità Tramite il gioco Quindi Mario viene conosciuto In giro Con left control Quindi control di sinistra N e M Potete regolare La larghezza di lavoro Vedete posso fare Con N posso decidere Di fare massimo 6 metri Oppure 12 metri Quindi sarebbe praticamente metà Con X Dispiego L'apparatia Qua vedete La tiro via E premendo il tasto B Inizio lo spargimento Dell'etame Vedete Nel portatore qua Piano piano avanza E porta l'etame in avanti E qua il girante Prende l'etame E lo butta in giro Sta cosa qua Non ho capito Cosa serve Questa piccola Rotellina Forse se Mario Serve per aiutare A spargere meglio L'etame Evitare che Mario Si incrucchino in mezzo Non ho l'idea Sinceramente Ma comunque Spero di sapere Queste cose Perché non sono sempre Monti formato su tutto Quindi cerco sempre Di dire quello che so E il resto Ma non può capitare Che io possa sbagliare Ma guardate bene Che fa una Discretaria di lavoro Cioè sono 12 metri Quindi devo dire Che non è neanche tanto male L'etame che dovete stare attenti È il fatto che Quando voi spargete l'etame Deve ricordarvi Che ha spargimento laterale Quindi non è che potete Spargere dove volete Deve stare attenti Far giro del campo così Mettervi a lato In modo da non Butergo in cima Dove non serve E poi al resto Vuol dire che è Veramente ottimo Vedete anche La stessa stanza Che vedete Che se lo faccio così Stanza tutto quanto Vedete è ottimo Perfetto Ecco qua Bene Niente da dire Complimenti a D Di mode passion Qua intanto Vediamo Se i nastri Si muovono Vediamo Si vedete Che appena appena Si muovono E puntano A portare Il letame In avanti Si qui purtroppo Una questione di Farming Che fa questo effetto qua Oppure No Non so Comunque Deve essere Che lo spargimento Viene effettuato Con l'etame In avanti Non così Complimenti a D Di mode passion Per questa bellissima Mode In descrizione Mi lascio il link Da sua pagina Per sapere Cosa sta combinando Link Al sito Della fastidia Per sapere Un pochettino Informazioni generali Su cosa produce Esattamente E soprattutto Caratteristiche varie Link Anche ovviamente Dalla mode Che potete scaricare Sul sito ufficiale Oppure tramite Anche menu di gioco Disponibile solamente Per pc E mac Non per console Per ora Poi non so Dipende da cosa Cosa riescono a combinare Con il costruttore Quindi niente Spero che questo video Ci sia piaciuto Spero che questo Modo capo Sottravi utile Perché è sempre bello Avere mezzi E attrezzi italiani Qui su farming Giusto per arricchire Un attimino il tutto So che purtroppo Molta gente Vuole tanto e troppo Però purtroppo Bisogna anche accontentarsi Non è facile fare Tutto quanto Ci vuole tempo Bisogna avere i permessi Tutto quanto Bisogna avere il materiale Non è così facile Di creare una moda da zero Ah beh allora Niente da dire Complimenti ancora Di Demo Passion C'è un prossimo test mode Sempre se avrò tempo Di farlo Perché purtroppo Ci sono delle modi interessanti Però non ho mai tempo Di presentarvele Quindi è un peccato E vabbè Cercherò di fare Quello che posso Come sempre Quindi niente Grazie per il vostro supporto C'è un prossimo test mode Prossimo video della serie Prossima live E alla prossima Ciao ciao